È stato un grande momento per tutta la comunità superstite di grande e forte emozione e per il quale continuiamo sicuramente per il quale ringraziamo sentitamente l'amministrazione comunale di Longarone e la diocesi per essersi interessate per averlo reso possibile. Incontrare il Papa e le parole del Papa sono state veramente un momento di grande intensità e sulle quali sarà necessario riflettere per il messaggio di speranza e di apertura verso il futuro che ha voluto dare con il suo saluto.